Malik Jupp della Nuova Regina. Oggi hai fatto tre gol. Il risultato mi è sembrato un po' troppo eccessivo perché forse la Valerone meritava di non subire un risultato così pesante. Volevo un tuo commento sulla partita e dimmi qualche cosa sui gol che hai fatto. È la prima partita che giochi nella Nuova Regina o hai giocato altre volte? Questa partita è la seconda per me. Ho giocato domenica scorso, il secondo tempo è entrato ma ho giocato la partita abbastanza bene, abbiamo perso. Oggi abbiamo vinto 5-2 ma il primo tempo è un po' difficile per noi perché loro sono bravi, molto bravi, noi continuiamo a lavorare, giochiamo insieme. Il secondo tempo, il secondo gol arriva. Ok, ti ringrazio per l'intervista, complimenti per i tre gol e in bocca al lupo per le prossime partite. Grazie mille, grazie, ciao.